Sono con l'avvocato Domenico Nucci che oltre ad essere un amico ormai da anni è un intenditore di politica, è un candidato, è un politologo ed è uno con il quale è gradevole discorrere di politica. La situazione non è bella né a livello nazionale né a livello locale, ci sono tanti problemi. Allora siamo venuti a trovarlo nel suo emblematico studio, sembra di immergersi nel secolo scorso, sembra di vivere un'atmosfera ottocentesca, novecentesca, anzi primi del novecento, alle storie del futurismo. Futurismo? Ma in effetti sono i politici che sono dell'ottocento oltre a questo studio che è comunque tarocco. I politici sono tarocchi e dell'ottocento, PD e PDL in realtà non cambia niente, hanno rovinato la nostra gente e se ne devono andare. Sotto questo aspetto forse è l'unico, ha ragione Grillo, ha ragione il Movimento 5 Stelle, cioè dopo massimo due mandati ve ne dovete andare. Pensa che tempo fa il capo dello Stato e il Presidente della Repubblica ha detto che lui è stato 34 anni al Parlamento, all'opposizione e 4 al governo. È incredibile, queste cose devono finire. Oltretutto, siccome PD e PDL non funzionano più, si deve ricostruire i partiti, si deve ricostruire la politica. È vero, deve partire dal basso. Abbiamo visto cosa ha fatto anche in questo caso Beppe Grillo, cioè lui è partito senza finanziamenti, è partito dal basso, è partito dal web, ha parlato con la gente e ha avuto il successo che ha avuto. Io voglio interromperti e dire che secondo me i festeggiamenti del 2 giugno erano totalmente da evitare perché la maniera sobria non dice un tubo come parola e tutti i proventi andavano devoluti in quel momento a chi aveva bisogno. La pensi come me o no? No, assolutamente. Io credo che invece siano importanti, non spendere soldi, buttare soldi, però il 2 giugno ricorda le forze armate, il 2 giugno ricorda la nostra patria, il nostro Stato. Io credo che noi, soprattutto da destra, bisogna ricominciare a parlare di politica. Io sono un uomo di destra, nel 2008 ho votato Silvio Berlusconi, non lo rifarei. Perché? Perché la destra deve risolvere la questione, la pregiudiziale fascista. Cioè quando uno parla di destra in Italia ti viene in mente l'olio di ricci, non ti viene in mente i manganelli. Non è così. Secondo me la destra ha bisogno di avere una identità e la destra ha bisogno di ripartire da zero, superando la pregiudiziale fascista e lasciando perdere però la Lega. E' stato l'errore che ha fatto Silvio Berlusconi. In fondo lui vent'anni fa voleva fare questo, non ci è riuscito, ma soprattutto non ci è riuscito perché si è alleato con la Lega. Come fai allearti con una forza secessionista? Mi chiederai, ma cosa significa oggi destra e sinistra? Beh, destra intanto significa che in un'ipotetica gara si parte tutti insieme con le stesse caratteristiche, ma si arriva chi prima, chi secondo, chi terzo. E non c'è niente di male. Non c'è niente di male dare un senso, dare un valore alla meritocrazia. Invece, secondo me, la sinistra si parte tutti insieme e si arriva tutti insieme e questo non va bene. Bisogna anche modificare una parte, quella fondamentale della Costituzione, che tutti la celebrano, la parte dei principi fondamentali. Alcuni sono buoni, altri no. Per esempio quel solidarismo, quel collettivismo, non va bene. Deve essere l'uomo al centro dell'attenzione del legislatore e del governo. Dopo questa visione nicciana della situazione a livello nazionale, io chiuderei con il tuo paese, Castiglione Fiorentino, che ha visto la sinistra vincere, nonostante che ci fossero stati dei problemi a livello locale. Quello che è successo nel mio paese, Castiglione Fiorentino, ha dell'incredibile. Il fallito viene nominato curatore del fallimento. È impossibile. C'è questa incompatibilità. In realtà il PD è fallito e ha fatto fallire il nostro paese e per ben due volte ha vinto le elezioni. Perché è accaduto questo? Perché la gente in realtà preferisce votare quello che gli sta vicino di casa e anche se sa che non è una brava persona lo vota perché non si sa mai. Mi può fare un piacere una volta. Questa storia deve finire. La politica deve ricominciare da zero a partire da Castiglione Fiorentino perché lì è successa una cosa incredibile ed è l'ora definirla. Io sono già due volte mi sono candidato e due volte che mi sono proposto. Hanno voluto votare i falliti se li tengono. Allora io ho scoperto in Domenico Nucci, nell'avvocato Domenico Nucci, un grillino di destra anche perché è naturale, fin da bambino, mi diceva la mamma, il grillino va tenuto a destra. Non so se a sinistra te te lo mette. Un grande, un grande. Ora lasciamo perdere. Il mio a destra è stato. Eh, tiencelo. Va bene, ok. Alla prossima. Grazie, grazie.